È stata una bella partita sotto l'aspetto agonistico, l'arrava stata studiata bene, eravamo andati in vantaggio, poi per una disattenzione dove potevamo gestire meglio un possesso palla, abbiamo preso l'uno pari, rimane rammarico che abbiamo avuto altre occasioni anche per rimetterla in piedi nonostante manchasse poco alla fine, purtroppo è un punto che serve a poco a noi e forse anche al Breno. Adesso niente, abbiamo oltreviso, sono sicuramente una partita tosta, è chiaro che andremo ad andare in campo per cercare sempre i tre punti.